E dopo il telegiornale, occhio alla notizia, siamo di nuovo in diretta per Primo Cittadino. Questa sera torniamo ad ospitare il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Buonasera sindaco. Buonasera e buonasera ai telespettatori che ci stanno seguendo. Vi ricordo che potete intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un messaggio utilizzando anche l'applicazione di Whatsapp al 338 49 68 250. Questi numeri comunque li troverete sempre in sovraimpressione, come ogni altro unedì. Sindaco, lo scorso anno intanto dobbiamo ricordare che è stato riconfermato Primo Cittadino con degli ottimi risultati. Quindi le chiedo un commento su questo. Sì, la squadra è stata riconfermata nello scorso maggio, nella tornata elettorale delle elezioni amministrative del maggio 2019. Devo dire un buon risultato, un risultato che sicuramente è stato per noi soddisfacente, che evidentemente ha premiato il lavoro dei primi cinque anni, un lavoro frutto di fatica, di impegno, direi anche di passione e di edizione in quello che abbiamo cercato di mettere in campo, non senza errori, non senza mancanze, perché sono sicuro che, come è ovvio, economia normale che sia, come tante altre amministrazioni saremmo mancati in tanti obiettivi che magari ci eravamo prefissati, alcuni attribuibili di queste mancanze direttamente all'amministrazione, altre magari no. Su alcune probabilmente avremmo fatto anche delle scelte più o meno forzate, che magari la cittadinanza ha condiviso o meno, o comunque delle scelte più o meno opinabili, però devo dire che nella generalità sicuramente la comunità di Cartoceto ha riconosciuto il buon lavoro svolto nei primi cinque anni di mandato. Avete ottenuto oltre il 70%, per cui anche a livello provinciare è un risultato importante. Un risultato importante, sì. Se dovesse fare un breve bilancio del suo primo mandato, quali sono le cose più importanti che è riuscito a portare a termine? Guardi, intanto la prima cosa direi, siamo riusciti non soltanto a mantenere tutti i servizi, ma soprattutto a mettere in campo, se non altro ad avviare, importanti investimenti di opere e infrastrutture nel nostro territorio, senza mettere mano in quella che è la pressione fiscale locale. Anzi, in alcuni casi, devo dire che siamo riusciti anche, seppur di pochi punti percentuali, a ridurre la pressione fiscale locale. E questo è sicuramente un motivo importante nei confronti dei cittadini, nei confronti delle famiglie e soprattutto anche nei confronti delle imprese, visto anche quello che è il trend dell'economia produttiva, insomma, che vede fiorente da questo punto di vista tutto il territorio comunale di Cartoceto. E ripeto, bene sottolineare perché parliamo di economia produttiva. Sicuramente da questo punto di vista, come dicevo, e parallelamente a quello che è stata l'azione amministrativa in campo fiscale, siamo soddisfatti di tutti quelli che sono invece gli investimenti che siamo riusciti a porre in essere nei primi cinque anni. Lo dicevo prima, con la consapevolezza, insomma, sicuramente di non aver centrato magari tutti gli obiettivi che noi stessi ci eravamo prefissati o di rispondere a tutte quelle che erano le istanze, le esigenze, le necessità del territorio e se vuole è anche il motivo per cui abbiamo deciso, insomma, di ripresentarci per un secondo mandato per cercare di concludere quanto meglio possibile il lavoro che avevamo iniziato a fare e quindi quanto avevamo iniziato a seminare nei primi cinque anni. Quello che, insomma, un problema che c'era ma che c'è anche adesso è quello dell'organico che è da riassestare, state lavorando molto su questo? È sicuramente un grosso problema, guardi, evidentemente ha ricoperto e sta ricoprendo gran parte dell'impegno che l'amministrazione sta affrontando in questi primi mesi, in questo primo anno del secondo mandato. Abbiamo avuto, come credo, altre amministrazioni, diversi pensionamenti e poi con tutte quelle, adesso senza star qui ad annoiare e a tediare i cittadini, ma con tutte quelle che sono purtroppo le norme arzigogolate, i gineprai, i burocratici che portano alle nuove assunzioni. Devo dire che siamo in un momento particolarmente delicato, critico, in cui molto spesso non nego che gli amministratori sono costretti a supportare in qualche modo, giustamente, anche i dipendenti, che tra l'altro colgo anche l'occasione per ringraziare, perché tutto sommato, insomma, come mutuo soccorso, in maniera vicendevole, si cercano di portare avanti tutti quelli che sono gli obiettivi programmatici dell'amministrazione comunale. Però sono anche fiducioso perché so che passata questa fase particolarmente critica, insomma, non navigheremo sicuramente nell'abbondanza del personale, ma sono convinto che con l'innesto di forze nuove, forze fresche, nuove competenze e magari, perché no, talvolta anche con un rinnovato spirito, con un rinnovato entusiasmo, insomma, sapremo togliersi delle soddisfazioni e quindi sapremo regalare dei risultati importanti alla comunità e al territorio anche in questi secondi cinque anni, anche in questi cinque anni del secondo mandato. Dopo tanti anni vorrei riproporvi e riproporle delle immagini che riguardano un'azione eclatante che lei fece nel 2014, con l'aiuto della regia le riguardiamo insieme, perché lei ha intrapreso uno sciopero della fame e della sete, issato su una gru, dove rimase per 31 ore circa su questo braccio, per protestare contro le lungaggini burocratiche che bloccavano il restauro delle mura cittadine. Tanto è stato fatto da quel giorno, una notizia che è un eco a livello nazionale, importante, tanto è stato fatto ma c'è ancora da fare. Sì, ha detto esattamente, insomma è raccontato esattamente lo stato delle cose, ovvero ritengo che tanto è stato fatto, all'epoca l'impasse era rappresentato più che altro da una lungaggini amministrativa e in modo particolare di giustizia amministrativa, siamo riusciti sicuramente a susseguire risultati importanti impiegando i fondi che già erano stati stanziati allora e soprattutto incrementando anche quella dotazione anche con risorse da bilancio. La situazione è sicuramente molto più positiva rispetto a quella dalla quale Cartoceto, il capoluogo di Cartoceto è partito allora, però ha detto bene, ancora il tutto non è stato completato. Intanto i residenti sono tornati tutti in abitazione. Sì, questo sì, per questo dicevo sicuramente la gravità della situazione non è equivalente a quella dell'ottobre 2014, ovvero al mese nel quale risale questa iniziativa, però, dicevo, mancano ancora tre interventi di cui due sarebbero ancora comunque urgenti per porre in essere ulteriori attività di restauro conservativo, di messa in sicurezza della cinta muraria di Cartoceto, migliorare come quello nel caso di Piazza Marconi ulteriormente la viabilità del centro storico e poi un terzo invece che riguarda un'opera di completamento della cinta muraria. Interventi che ammontano, economicamente parlando, a circa 1.600.000 euro. Non manchiamo mai occasione per quelli che sono i vari canali di finanziamento di avanzare l'istanza appunto per questi tre interventi di cui abbiamo appena parlato e purtroppo speriamo di sì e l'obiettivo nostro è quello in maniera tenace di portare anche avanti questo tipo di richieste, ripeto, nei vari canali di finanziamento. Dicevo che purtroppo molto spesso l'incongruenza è quella legata al fatto che gli enti cosiddetti virtuosi in graduatorie che vengono istruite a livello nazionale spesso passano in secondo piano rispetto purtroppo a comuni, enti e quindi territori che sono gestiti in maniera un pochino più allegra rispetto a quelle che le varie amministrazioni che ci sono succedute hanno fatto a Cartoceto. Però speriamo di arrivare presto i cittadini del capoluogo di Cartoceto insomma se lo meritano di arrivare quanto prima davvero al completamento definitivo anche di questi tre interventi. Prima di andare a leggere i primi messaggi dei cittadini le chiedo di cambiare argomento e di passare al piano di opere pubbliche. Direi di cominciare dal centro sociale anziani, anche questo molto importante. Sì, questa è un'opera tra l'altro che la comunità di Cartoceto è un modo particolare chi frequenta già oggi non questo genere di strutture che stiamo vedendo alle nostre spalle è sicuramente molto atteso da anni, oserei dire da decenni perché diverse amministrazioni diciamo che si sono succedute compreso la mia, quella del primo mandato diciamo che a più riprese si sono un po' pronunciate rispetto a questo obiettivo che sicuramente era ed è ancora sicuramente importante per la nostra comunità. Finanziato interamente dal comune? Oggi l'abbiamo inserito finalmente nel piano triennale delle opere pubbliche fortunatamente Cartoceto è un comune poco indebitato e questo ci consentirà insomma di contrarre un mutuo col quale finanzieremo interamente quest'opera per circa 700 mila euro dobbiamo ricordare ai telespettatori ed evidenziare che in questo edificio che stiamo vedendo e che sorgerà lungo viale della Repubblica tra l'altro vediamo anche il potenziamento di quelli che sono i posteggi per le auto sul fronte e anche sul lato dell'edificio non verrà dedicato, anche se per la stragrande maggior parte insomma sarà dedicato a centro social anziani ma non sarà esclusivo per questo tipo di utilizzo perché una parte invece vedrà operare la Polizia Municipale che oggi invece trova luogo come sede della Polizia Municipale in degli spazi che non sono proprietà dell'ente per cui il comune è costretto sostanzialmente a pagare purtroppo da tanti anni un affitto e quindi l'operazione siccome anche per oggi garantire una sede dignitosa agli anziani in cui ritrovarsi il comune sta pagando un affitto l'operazione è un po' quella di contrarre un mutuo per realizzare un'opera sicuramente importante di questo tipo ma verrebbero meno i due fitti che oggi il comune sta sostenendo e questo significa ovviamente patrimonializzare di più anche l'ente e quindi insomma riteniamo che al di là di quella che può essere l'importanza, l'incidenza dell'opera che stiamo vedendo è sicuramente anche un intervento strategico in prospettiva insomma per il patrimonio del comune di Cartogeto Le nostre scuole le chiedono, sono sicure per un eventuale terremoto? Allora, questo tema è sicuramente molto molto sentito Nel 2014 intervenimmo a Cartogeto nel capoluogo che poi è esattamente la foto che stiamo vedendo con un intervento di adeguamento sismico del plesso scolastico del capoluogo Da poco abbiamo realizzato le cosiddette verifiche di vulnerabilità sismica nei plessi scolastici della scuola primaria Mascarucci di Lucrezia e nella scuola secondaria di primo grado Marco Polo, anch'essa di Lucrezia Gli esiti che sono venuti fuori, diciamo che sulla base di quello che è il report e i feedback che ci hanno fornito i tecnici sono quelli attesi rispetto all'anno di costruzione e alla tipologia di costruzione Oltre alle verifiche di vulnerabilità sismica su questi due plessi che ho appena detto c'è stato anche concesso un contributo di circa 153 mila euro se non ricordo male, oltre ai 22 mila euro circa che abbiamo messo come Comune di Cartogeto a cofinanziamento di questo importo che ho appena detto, quindi per un totale di 175 mila euro per la progettazione degli interventi di adeguamento sismico su questi due plessi Dall'analisi e dall'esito di questo studio preliminare che è stato fatto in termini economici è stato dimostrato sostanzialmente che è più conveniente realizzare due plessi totalmente ex novo rispetto all'intervento di adeguamento sismico degli attuali questo non significa che gli attuali non sono sicuri significa che sono all'interno del range di sicurezza o meglio di risposta a eventuali eventi di carattere sismico però rispetto all'adeguamento all'ultima normativa da un punto di vista economico converrebbe realizzare due plessi nuovi è il motivo per il quale già questa progettazione probabilmente che affideremo sarà rivolta alla realizzazione di due plessi nuovi è anche il motivo per il quale sia da un punto di vista amministrativo ma anche qui da un punto di vista finanziario l'ente si muoverà per acquisire le aree che saranno necessarie sia alla prosecuzione del campus scolastico e quindi alla realizzazione di questi due nuovi plessi tra l'altro la prosecuzione del campus è anche questo un obiettivo programmatico che ci eravamo dati all'inizio di questo secondo mandato nella speranza che e quindi diciamo che con quelle che sono le forze autonome dell'amministrazione riusciremo ad arrivare all'acquisizione delle aree oltre che alla progettazione esecutiva dei due nuovi plessi ci auguriamo anche qui che le istanze presentate per la realizzazione di questi due nuovi plessi che ammontano a circa 7 milioni di euro e presentate a valere su diversi canali di finanziamento Tromino così come le mura urbiche del Capoluogo quanto prima riscontro perché si possa insomma procedere anche con questo importantissimo risultato che avrebbe sicuramente insomma un'incidenza in modo particolare sulla frazione di Lucrezia molto molto importante Ecco la Ragnette appunto c'è questo progetto questa scala antincendio Sì questo sarà un intervento invece che vedrà presto coinvolgere il plesso scolastico del Capoluogo così come di recente abbiamo presentato un'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione di incendi nella scuola dell'infanzia di Ponte Morello c'era un bando nazionale da parte del MIUR e insomma anche da questo punto di vista insomma cerchiamo di sfruttare tutti quelli che dicevo sono le opportunità regionali e nazionali per riuscire a quanto prima e quanto meglio perfezionare insomma la situazione dei plessi scolastici Andiamo avanti con i messaggi Lucrezia tante cose fatte bene ma la rotatoria tra via Casello e via Kennedy era meglio non farla è un po' piccola e anche pericolosa cosa ne pensa? L'elemento della discordia che ha diviso diciamo per e tuttora divide la comunità di Lucrezia che non è questa perché questa l'abbiamo realizzata di recente quella che invece ha evidenziato il telespettatore ovvero quella all'incrocio tra via Casello via Gramsci e via Circomballazione Kennedy è per certi versi un risultato che dà riscontro a esigenze, a istanze che venivano avanzate alle amministrazioni devo dire da decenni proprio per la particolarità dell'intersezione stradale devo dire che nel momento in cui i cittadini rispettano quello che è non solo il codice stradale ma soprattutto anche la segnaletica sia verticale che orizzontale a poste realizzata è un'infrastruttura è un elemento che oggi ha migliorato la criticità di quel a nostro avviso perlomeno poi dicevo purtroppo questo è un elemento oggetto di discussione che ha diviso la comunità di Lucrezia non nego che purtroppo molti automobilisti non percorrono correttamente quella rotatoria e in alcuni casi devo dire che ci sono situazioni sicuramente di pericolosità rispetto, immagino che il telespettatore insomma facesse riferimento all'eventuale possibilità e soprattutto anche opportunità di posizionare al centro di quella rotatoria un manufatto magari come quello che stiamo vedendo alle nostre spalle centrale così da meglio evidenziare quello che non soltanto era la presenza della rotatoria che poi di fatto di rotatoria non si può parlare meglio parlare di riqualificazione di quell'intersezione stradale ma un manufatto di questo tipo avrebbe sicuramente anche meglio delineato e caratterizzato insomma il senso e la modalità di circolazione di quell'incrocio purtroppo non è possibile perché i mezzi pesanti viceversa che provengono dalla superstrada Fano Grosseto e quindi percorrono via Casello nel momento in cui avrebbero dovuto svoltare a sinistra cioè su via circolazione Kennedy non sarebbero purtroppo riusciti per la presenza di quel manufatto Passiamo sin verso quella che stiamo vedendo alle sue spalle anche questo è un intervento che è riuscito a rallentare un po' la velocità delle auto Sì, su questo obiettivamente credo ci sia stato insomma meno dibattimento da parte della collettività se non per la presenza delle cosiddette rampe che insomma all'inizio hanno sicuramente destato non soltanto curiosità e dibattito anche arrabbiature da parte di alcuni però ecco via Circonvalazione Kennedy che parecchi anni fa era utilizzata come una rete viaria importante e alternativa rispetto alla via Flaminia con quello che è stato invece l'incremento del carico urbanistico che si è sviluppato in quella zona in modo particolare in quell'intersezione aveva dei gravi problemi non soltanto di elevata velocità nel transito delle auto e non solo ma soprattutto anche di ingresso e di uscita su via Marsala che tra l'altro è la via che conduce alla nuova scuola dell'infanzia una via chiusa tra l'altro e quindi che in modo particolare dal dicembre 2017 è sicuramente caricata di un maggior traffico io ritengo che con questo tipo di intervento che è stato tra l'altro anche dispendioso da un punto di vista finanziario abbiamo anche qui non raggiunto la perfezione come ovviamente insomma in tanti altri casi analoghi però sicuramente è migliorato quello che è ripeto la percorribilità e quindi ridotto la velocità abbiamo sicuramente incrementato la rete dei percorsi pedonali con tutti i percorsi rialzati che vediamo della frazione di Lucrezza e abbiamo sicuramente anche messo maggiormente in sicurezza l'entrata e l'uscita da via Marsale le chiederei sindaco adesso una botta di risposta perché ci stanno arrivando tanti messaggi e cerchiamo di leggerli tutti sono una signora che abita a Ponte Morello dietro il fiume ed è una schifezza ci scrive la telespettatrice ci sono anche dei topi e dei manuntampo insopportabili sarebbe opportuno fare una grossa pulizia possibilmente prima dell'inizio dell'estate che cosa ne dice? credo che si riferisca se la signora risiede a Ponte Morello credo si riferisca non al fiume ma al corso d'acqua minore del rio secco già un po' di tempo fa c'è stato un intervento importante insieme al consorzio di bonifica purtroppo lì si sovrappone anche il problema non so esattamente chi è la signora e quindi dove risiede esattamente ma si sovrappone anche il problema delle erbe infestanti eccessivamente alte talvolta per il ritardo nel taglio della sede ferroviaria della sede scusi dell'extratta ferroviaria Fanurbino e quindi si sovrappongono diciamo diverse problematiche come amministrazione cerchiamo sempre di insomma anticipare anche quella che è la richiesta in questo senso a RFI di manutenzione di quel tratto la stessa cosa vale per il coinvolgimento del consorzio di bonifica del corso d'acqua minore di rio secco ma obiettivamente insomma ci sono dei punti e dei tratti che occorrerebbe curare maggiormente con l'apporto di tutti i soggetti coinvolti e interessati ci scrivono da via Pilone e chiedono se sono previsti dei rallentamenti di velocità lungo questa strada in quanto le auto transitano ad alta velocità con notevoli problemi anche per chi passeggia a piedi al momento no la cosa curiosa mi riaggancio un po' a quello che dicevo prima è che se inizialmente quelle rampe che abbiamo realizzato in via Circomalazione Kennedy di cui parlavo prima hanno creato non soltanto curiosità ma ripeto parecchie arrabbiature da chi vi transitava e vi transita adesso devo dire che ci stanno pervenendo questo tipo di segnalazioni e quindi questo tipo di richieste un po' da tutto il territorio intervenire ovunque non è evidentemente possibile non l'abbiamo fatto soltanto su via Circomalazione Kennedy ma a dire il vero l'abbiamo fatto anche su via Pilone non credo in quel tratto segnalato ma in direzione diciamo superstrada in direzione via via Ticino su questo però mi sto confrontando con la polizia municipale affinché ci sia prossimamente anche un più adeguato sistema diciamo di monitoraggio di quella che è la velocità di transito di alcune vie e di alcune strade interne della frazione di Lucrezia e non solo Alcuni residenti di San Marco di via San Marco vorrebbero ripristinare il doppio senso di circolazione è possibile? Tecnicamente e teoricamente è tutto possibile però tra l'altro anche questo si ricollega un po' a quell'intervento di riqualificazione di via Circomalazione Kennedy che vedevamo prima ovvero chi dei residenti abita sopra l'asse dell'extrata ferroviaria Fan Urbino piuttosto che percorrere via Circomalazione Kennedy poi via Casello via della Liberazione per raggiungere l'ingresso della superstrada Fano Grosseto era solito percorrere via Pilone imboccare poi via San Marco dove purtroppo c'è un devo dire un incrocio molto pericoloso perché chi dalla zona fiume sale in direzione Calcinelli molto spesso lo fa come segnalava e evidenziava il telespettatore di prima in maniera abbastanza con velocità abbastanza elevata e viceversa invece chi lo percorre in direzione Montemare ed è diretto verso la superstrada Fano Grosseto è solito tagliare purtroppo quel tipo di intersezione a cui sta facendo riferimento il telespettatore e quindi l'intervento che abbiamo posto in essere è un po' dedicato a questa messa in sicurezza adesso però stiamo valutando perché è corretto che un'amministrazione accolga per quanto possibile ad ascolti anche quelle che sono le proposte che vengono dalla cittadinanza stiamo valutando di modificare leggermente quel tipo di intervento che tra l'altro ancora non è definitivo perché ci sono soltanto posizionati dei cartelli mobili ovvero che comunque non sia possibile accedere a via San Marco venendo diciamo da Monte quindi venendo da Calcinelli da via Circonvallazione Kennedy cosa invece diversa venendo dalla zona fiume ovvero venendo da via Pilone si potrà probabilmente girare a destra in via San Marco questo per il problema di cui parlavo prima ovvero che chi veniva da via Circonvallazione Kennedy era solito tagliare completamente quel tipo di incrocio senza invece fermarsi in mezzo alla sede stradale per dare la precedenza come codice della strada non solo suggerisce ma obbliga a fare Sindaco quando metterete lampioni a led in tutto il comune di Cartoceto le chiedono? Spero davvero presto nel piano triennale delle opere pubbliche è inserito anche questo tipo di intervento con un project financing per 985 mila euro un intervento molto molto importante che ci consentirebbe intanto nelle ore notturne di tenere accesi tutti i punti luce del nostro territorio non in maniera alternata come invece avviene purtroppo ad oggi e soprattutto ci consentirebbe anche di reinvestire quello che è il risparmio dovuto all'efficientamento energetico in miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di pubblica illuminazione stradale che oggi sono presenti sul nostro territorio questo non significa anche qui che insomma arriveremo a completare o a riscontrare tutte quelle che sono le esigenze del territorio ma insomma contiamo di ulteriormente incrementare i punti luce in zone tra l'altro particolarmente ancora purtroppo buie del territorio magari periferiche le chiedono anche quando finiranno i lavori i campi di calcio di sintetico a Lucrezia anche perché ci sono dei ragazzi che oggi devono fare i pendolari tre volte alla settimana questo è un altro obiettivo diciamo che ci eravamo dati e sicuramente è un risultato che raggiungeremo sicuramente a presto a cavallo dei due mandati l'abbiamo iniziato sul finire del precedente del precedente mandato per ciò che concerne il completamento di quei campi in sintetico con i relativi spogliatoi a cui si fa riferimento credo che abbiamo da poco insomma giudicato l'ultima l'ultima gara per cui restano ancora i lavori di alcuni lavori di completamento e poi insomma sarà perfettamente saranno perfettamente fruibili questo tipo di nuove infrastrutture sportive con spogliatoi annessi che daranno tra l'altro la possibilità insomma al settore giovanile della Real Metauro che è una società di calcio condivisa tra il comune di Cartoceto e il comune di Colli al Metauro e quindi centinaia di giovani centinaia di bambini di potersi allenare in una zona polisportiva maggiormente funzionale confortevole e accessibile Sefano che a Pesaro ci sono degli sgambatoi per cani è possibile averne uno anche a Lucrezia? È possibile su questo abbiamo avuto e abbiamo mantenuto sempre come amministrazione comunale una posizione molto netta molto delineata ovvero non siamo affatto convinti del fatto che un'area sgambamento cani interamente pubblica prendendo semplicemente un'area recintandola e poi dando la possibilità a tutti al di là di quelle che sono le taglie tra l'altro dei cani dal più piccolo a quello che magari è un po' più non solo grande ma magari anche un po' più aggressivo sia la soluzione migliore la soluzione che invece vorremmo portare avanti e cercare di centrare come risultato perché anche questo è tra gli obiettivi è quello di mettere a disposizione un'area magari anche compartecipando economicamente come comune però riservando un'area libera gratuita e ad accesso per tutti però al tempo stesso su cui possa insistere in parte anche tutta una serie di attività di orientamento di addestramento pet therapy monitoring insomma tutto quello che oggi gira attorno agli amici a quattro zampe gestite magari da un soggetto giuridicamente privato da un'associazione comunque da un soggetto giuridicamente riconosciuto che possa a quel punto provvedere anche alla manutenzione dell'area invece libera e ad accesso gratuito per tutti perché quando ci sono le gelate il comune non passa a dare il sale sulle strade non ha i mezzi spargisale le chiedono la strada via pieve è molto pericolosa quando c'è il gelo in più le chiedono anche informazioni sulle asfaltature a cartoceto partiamo dalla prima partiamo dalla prima non c'è il gelo di solito in comune passa con assolutamente sì anche perché non soltanto ne abbiamo uno piccolo come mezzi diciamo di proprietà dell'ente ma abbiamo affidato un servizio esterno non soltanto di rimozione dell'eventuale nevicata che quest'anno credo che ancora no ha mantenuto in denne l'intero territorio della provincia di Pesonurbino ma anche di spargimento sale è chiaro che anche per cercare di preservare il manto d'asfalto lo facciamo soltanto nel momento in cui si presentano effettivamente le condizioni il telespettatore però ha ragione su una cosa che c'è un tratto di via pieve che è quello che anticipa l'ingresso a sinistra su via montecchio che è particolarmente pericoloso è altrettanto vero tra l'altro che c'è stata una occasione in cui si sono verificati in successione due incidenti abbastanza importanti e non nego che quest'anno tra l'altro in quelle poche circostanze in cui poteva esserci il rischio di formazione di ghiaccio in quel tratto è stato particolarmente attenzionato proprio per questo motivo sull'asfaltatura invece? sull'asfaltatura non so adesso ovviamente a quali trade si riferisca io ritengo che insomma nei primi 5 anni abbiamo fatto un lavoro da questo punto di vista straordinario tra l'altro prima di andare in onda mi diceva che le richieste che i cittadini insomma avevano avanzato durante l'ultima puntata di Primo Cittadino poi sono state eseguite nel senso che ha mantenuto le promesse alcune DS sì un po' vale quello che dicevo prima sicuramente non siamo arrivati non siamo arrivati dappertutto siamo ben consapevoli che ne mancano diverse tra l'altro stiamo intervenendo e interverremo a breve in modo particolare su alcune strade periferiche mi viene in mente visto che parliamo di Cartoceto un po' della parte alta mi viene in mente via Montecchio via Cannelle via Solferino via San Michele via Prugneta ne dimenticherò sicuramente alcune altre saranno prossimamente in programma però ecco ci teniamo non soltanto un po' a provvedere a quegli interventi nel centro abitato che magari guardavamo prima ma anche di mantenere e curare le zone periferiche non siamo arrivati sicuramente dappertutto nel primo mandato ma ribadisco alcune cose sono già state fatte sul finire del 2019 ed altre troveranno avvio sin dal prossimo mese di marzo quando magari le temperature e la stagione ce lo consentirà di fare magari in miglior modo ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torneremo a parlare di sport strade ufficina della creatività e poi continueremo a leggere i vostri messaggi a fra poco e siamo tornati in diretta con il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi per lei subito una segnalazione da località Cannelle una strada che è da asfaltare le dicono una delle prossime appunto tra l'altro mi pare che interveremo con un intervento di manutenzione straordinaria proprio in questa settimana o la prossima non ricordo esattamente e che sicuramente in prospettiva invece sarà caratterizzata da un ulteriore intervento ancora più importante per risolvere definitivamente quel tratto stradale perché quella via tra l'altro si divide in due un tratto è sotto il comune di Cartoceto e un tratto sotto il comune di Fano ma credo che il telespettatore insomma c'è anche qualche altra strada che magari si è dimenticato prima perché sa quando poi le citiamo sono sempre contenti se ho dimenticato via Montefiore via Belvedere saranno altre due tratti di strada a proposito di capoluogo e a proposito di zone periferiche insomma che vedranno un prossimo intervento quindi ecco a maggior ragione sottolineiamo il fatto che stiamo intervenendo più in quelle zone periferiche o del capoluogo piuttosto che ecco nelle zone del centro abitato qualche volta si criticano le amministrazioni perché magari tendono ad investire sempre dove c'è una maggiore densità abitativa diciamo così Passiamo alla berretella stradale che va da via della liberazione a via Pilone anche questo è un vostro obiettivo? Questo è un obiettivo molto importante che ci siamo dati in questo secondo mandato nel primo mandato non era presente contiamo di trovare la copertura finanziaria per la realizzazione nel 2021 ed è giusto sottolineare la copertura finanziaria quindi probabilmente la realizzazione non si avvierà nel 2021 però insomma contiamo il prossimo anno di arrivare ad una fase di progettazione avanzata questa infrastruttura questo collegamento viario consentirà intanto di risolvere definitivamente il problema che c'è in modo particolare in alcune ore della giornata nel transito del restringimento di via Pilone in modo particolare per i mezzi pesanti che devono raggiungere la zona artigianale di via Tevere e poi tra l'altro consentirà anche di dare avvio alla prima diciamo tranche di un'ulteriore infrastruttura viaria che collegherà la zona diciamo dell'uscita della superstata Fano Grosseto al centro abitato di Lucrezia tra l'altro sono anche convinto lo vediamo in modo particolare in questa foto in questo estratto planimetrico del piano regolatore non in questo invece in questa foto dall'alto che questo collegamento viario potrà anche esatto ecco lo vediamo lo vediamo qua con i vari comparti urbanistici io sono anche convinto insomma che saprà stimolare ulteriormente magari l'insediamento di nuove attività produttive importanti sul nostro territorio andiamo avanti molto velocemente sulle segnalazioni intanto le chiedono di illuminare il tratto che va dall'uscita della superstrada fino alla zona fiume e poi mi scrivono anche per quanto riguarda i parchi giochi per i bambini i giochi che sono distrutti sia a Cartoceto che a Lucrezia e che poi diventano pericolosi anche per i bambini quindi se fosse possibile anche installare delle telecamere abbiamo iniziato ad intervenire in alcuni parchi ne cito alcuni il parco del quartiere Madre Teresa di Calcutta del Canada in alcuni giochi del quartiere Santi e del quartiere della zona Cantanti in modo particolare negli ultimi due non abbiamo ancora completato il tutto sicuramente ne mancano degli altri anche qui ne cito due a titolo esemplificativo il parco giochi di Cartoceto del Capoluogo così come il parco giochi del quartiere Ponte Murello invece in cui bisognerà sicuramente intervenire in maniera più importante e via via insomma risorse permettendo interverremo sicuramente in tutti i parchi pubblici si lamentano anche da via Corvina come mai dicono si sono dimenticati di noi non lo so per che cosa non so se il telespettatore o la telespettatrice si riferisca alla realizzazione dei sottoservizi da un punto di vista della manutenzione del manto stradale credo proprio di no perché un tratto è stato realizzato nel corso del primo mandato nel secondo tratto invece quello che conduce verso il comune di Fano abbiamo cercato con alcuni seppur piccoli interventi ma di mettere in sicurezza la banchina stradale che in alcuni punti era diciamo davvero davvero pericolosa credo che il telespettatore o la telespettatrice si riferisca alla rete di sottoservizi conosce i residenti di quella via conoscono anche l'impegno dell'amministrazione in questo senso che non è soltanto un impegno teorico ma è anche un impegno sostanziale dal momento che abbiamo deciso di compartecipare economicamente alle spese di investimento per la realizzazione di questi sottoservizi di cui stavo parlando spero che anche gli altri soggetti preposti che dovranno intervenire nella realizzazione della dotazione di questi sottoservizi che ha ragione qua la telespettatrice o il telespettatore ad evidenziare insomma nel 2020 gridano vendetta rispetto ad una zona che ne è ancora sprovvista Via Sant'Anna nel tratto che porta l'ex Fornace la velocità delle auto è spaventosa volevo sapere anche se di competenza della provincia ci scrivono è possibile fare qualcosa almeno della segnaletica verticale di rallentamento una segnaletica verticale forse orizzontale verticale è assolutamente possibile vale un po' il discorso che facevamo prima con Via Pilone non possiamo ovviamente adesso realizzare rampe ovunque ma ci terrei in modo particolare e ripeto sarà oggetto insomma di un giusto approfondimento nelle prossime settimane insieme alla Polizia Municipale per un più adeguato sistema di monitoraggio di rilevazione della velocità lungo alcune strade alcune vie del nostro territorio che sono particolarmente caratterizzate dalla velocità elevata di transito chiedono per le fogne in Via Marsala ma anche per lo smaltimento dell'Eternit della tettoia della tennis e il serbatoio dell'acqua il serbatoio dell'acqua non so a che cosa onestamente si riferisce non so se il serbatoio dell'acqua del circolo tennis il messaggio è unico il messaggio è unico non so per ciò che riguarda lo smaltimento Ethernet della tettoia del circolo tennis stiamo predisponendo proprio in questi giorni il bilancio di previsione abbiamo inserito il contributo che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Ambiente per le spese di progettazione di quell'intervento di smaltimento e poi ovviamente procederemo immediatamente a seguire la progettazione con lo smaltimento vero e proprio dell'Eternit Fogne in Via Marsala novità? Le fogne in Via Marsala anche qui vale lo stesso identico discorso di Via Corvina il Comune non si è mai sottratto anzi non solo ha sempre sollecitato chi è preposto alla realizzazione di questo tipo di investimenti non ci siamo mai sottratti rispetto anche ad una eventuale compartecipazione economica rispetto alla realizzazione contiamo anche qui insomma di arrivare prima o poi a questo risultato importante in alcune zone che tra l'altro adesso stasera ne citiamo due Via Marsala e Via Corvina ma parte di Via della Liberazione ma ne potremmo citare tante altre che come dicevo prima gridano vendetta che nel 2020 siano ancora sprovviste di quelli che sono i servizi e quindi le reti dei sottoservizi essenziali rimaniamo un attimo in ambito sportivo intanto quello che è stato fatto come il tetto del bocciodromo sì questo è un intervento invece che abbiamo realizzato in questo mandato esatto la foto è esattamente questa per 82 mila euro prima parlavamo di smaltimento Eternit e qui era una situazione analoga progettazione dell'intervento un intervento per 82 mila euro che abbiamo concluso da pochi mesi nel mese di dicembre scorso e che sicuramente è un intervento importante anche da un punto di vista non soltanto ambientale ma dell'efficientamento energetico della struttura che ad oggi è più performante più rispondente anche a quel tipo di esigenze Si sta completando invece poi la realizzazione dei nuovi campi in sintetico e spogliatoi a Lucrezia quindi questo l'abbiamo già accennato Qua invece vediamo un edificio sono i vecchi spogliatoi non ovviamente i nuovi che distano poche decine di metri da questi qui questi invece sono i vecchi spogliatoi dello stadio Amati per ciò che riguarda questi spogliatoi abbiamo aggiudicato la gara e quindi procederemo presto alla riqualificazione di questi spogliatoi sui quali non si interviene da decenni la stessa cosa vale per l'appunto su quest'altro impianto sportivo questo è l'impianto sportivo dell'Omar Sivori qui tra l'altro dobbiamo procedere anche per quello che è stato un risultato sportivo molto importante da parte della società locale di calcio A5 la Bulldog TNT Lucrezia che è stata di recente promossa nel campionato di serie A2 da questo punto di vista quindi la federazione detta tutta una serie di prescrizioni a cui quell'impianto si deve conformare che evidentemente non era nato per questo tipo di campionato e quindi anche su questo interverremo davvero a breve credo che i lavori inizieranno nel prossimo mese di marzo Palasporta Cercolani? Questo è un altro degli impianti invece su cui dovremmo intervenire io credo che lo faremo assolutamente entro il 2020 ci sono dei problemi sul tetto sulla copertura purtroppo in alcuni punti la copertura è da sostituire e quindi ripeto sono sicuro che nel 2020 riusciremo a trovare le risorse per potervi procedere Le chiedono per le righe le righe di parcheggio in piazza Martiri di Bologna perché anche la mattina per portare i bimbi a scuola è un po' una giungla Giusto il telespettatore che segnala questo problema ha perfettamente ragione e anche piazza Martiri di Bologna così come altri tratti stradali insomma saranno caratterizzati prossimamente dal rifacimento della segnaletica orizzontale che evidentemente non soltanto su piazza Martiri di Bologna ma anche in altre zone parcheggio parcheggio in piazza Garibaldi a Cartoceto stesso discorso le chiedono anche qua di sistemare i parcheggi tra l'altro lì in piazza Garibaldi è rimasta ancora un po' la situazione non perfettamente non del tutto regolamentata a seguito di quegli interventi sulla cinta muraria di cui parlavamo parlavamo prima perché gran parte della piazza era purtroppo interdetta al traffico Ponte Murello incrocio tra via Vittorio Veneto e via Le Gramsci molto pericoloso e chiedono anche più controlli al parco di Ponte Murello nel tardo pomeriggio e sera il parco di Ponte Murello lo citavo prima non soltanto per l'installazione o il potenziamento di nuovi giochi ma i cittadini e i residenti del quartiere di Ponte Murello sanno da sempre che mi sono impegnato rispetto a quel tipo di risultato e di obiettivo ma sanno anche che vi provvederemo nel momento in cui avremo anche la possibilità di installare delle telecamere su quel parco che oggi purtroppo rappresenta una zona particolarmente sensibile tant'è che nei tre mesi di estate quando come Polizia Municipale riusciamo anche ad organizzare il servizio notturno ho chiesto agli agenti e al comando di organizzare un servizio di controllo ovviamente fino all'orario in cui essi sono presenti ma sicuramente è una questione che abbiamo intenzione di sviluppare nei prossimi mesi mi sono dimenticato una cosa del parcheggio l'abbiamo detto no è dell'intersezione tra via Vittorio Veneto e via Legramci lì onestamente faccio appello alla buona condotta e al rispetto da parte dei conducenti del codice della strada perché obiettivamente parliamo di un'intersezione in cui si fa veramente fatica ad intervenire però ci sarebbe una segnaletica orizzontale e verticale da rispettare e sicuramente il telespettatore si riferisce a chi transita lungo Viale Gramci attraversa Viale Veneto senza rispettare lo stop che è posizionato in quell'intersezione purtroppo Sono due anni che aspettiamo i garage nella Casa Popolare in Via Flaminia vorremmo sapere quando verranno consegnati Qui vorrei ricordare che il Comune di Cartoceto ha soltanto in maniera brillante diversi anni fa colto un'opportunità dettata da un bando regionale nell'intercettazione insomma di risorse per diverse centinaia di migliaia di euro però poi la gara così come la direzione la conduzione lavori e quindi anche i tempi non soltanto la tipologia è stata gestita completamente da ERAP i rallentamenti tra l'altro immagino siano dettati soprattutto in questo periodo da tutta una serie di difficoltà di inciampi e di ritardi che ci sono stati i residenti insomma sanno benissimo quanto stia a cuore l'amministrazione che possano poter fruire quanto prima in maniera completa e definitiva anche ovviamente dei loro posti auto e quindi dei garage però ripeto più di dover e poter richiedere ad ERAP il completamento di questo tipo di intervento non possiamo fare perché esso è stato completamente gestito dall'ente degli alloggi popolari chiedono informazioni sulla nuova segnaletica stradale in molti casi è sbiadito oppure danneggiata quindi dei cartelli sia all'ingresso che all'uscita del capoluogo ma anche per le frazioni del comune le chiedono altresì se a cartoceto questo verrà rimesso il Bancomat in piazza Sì questo è un'altra sulla segnaletica stradale penso di aver risposto prima il Bancomat devo dire che è una di quelle questioni alle quali vorremmo sicuramente lavorare perché purtroppo dopo l'episodio che c'è stato ovvero quando è stato fatto saltare in aria purtroppo poi l'istituto di credito ha deciso di non ripristinarlo su questo ci stiamo muovendo su più fronti visto che non sono ufficiali preferirei non esporli però confido di poter raggiungere questo risultato perché soprattutto per il capoluogo che si apre ovviamente a quella che è la frequentazione dei turisti soprattutto stranieri oggi poter affrontare quel tipo di flussi senza disporre di un Bancomat nel capoluogo diventa abbastanza difficile Torre di Ripalta insomma rientra anche tra i luoghi selezionati da una commissione nazionale quindi 250 mila euro che erano stati destinati a questo monumento questo rudere da salvare ci sono novità? Diciamo che questa è stata una delle prime questioni che la nuova amministrazione comunale ha ripreso fortemente con determinazione e convintamente in mano perché l'ha ricordato lei c'erano stati assegnati 250 mila euro per l'intervento di messa in sicurezza e restauro conservativo dell'antica torre civica di Ripalta purtroppo rispetto a quella che è stata l'assegnazione del contributo diciamo che sono cambiate le regole in corsa ovvero a tutti gli enti beneficiari è stata richiesta soltanto dopo l'assegnazione di questo finanziamento una dichiarazione di interesse culturale sui beni oggetto per l'appunto di questo contributo importante nel nostro caso perché insomma come ricordavamo monta 250 mila euro ci siamo sicuramente in maniera celere subito attivati per poter ottenere questa dichiarazione di interesse culturale se non che le regole sono ancora cambiate perché mentre l'organo preposto inizialmente per la concessione ammesso ovviamente che ce ne fossero le condizioni della dichiarazione di interesse culturale era una commissione regionale incardinata all'interno del del della regione Marche purtroppo questa competenza è stata spostata direttamente alla direzione centrale del ministero a Roma e questo inevitabilmente ha allungato i tempi noi ci siamo mossi direttamente con l'allora segreteria particolare del ministro abbiamo tra l'altro interessato non soltanto come comuni di Cartoceto ma insieme anche ad altri comuni della nostra provincia che vivono purtroppo la stessa situazione anche Anci che devo dire ha prontamente risposto e supportato i comuni della nostra provincia e non solo della nostra regione perché ce ne sono diversi anche delle Marche nella stessa nostra situazione poi purtroppo c'è stato anche l'avvicendamento del ministro dei beni culturali che ha sicuramente riallungato i tempi adesso speriamo che il ministro Franceschini prenda quanto prima in mano questa questione perché noi ovviamente abbiamo tutto quanto per poter procedere volevo farle un'altra domanda poi le farò una carrellata di segnalazioni che ci stanno arrivando perché purtroppo non faremo in tempo a leggerle tutte avete deciso di ridare nuova vita anche all'ex autore messa comunale di Cartocetto e all'ex scuola dell'infanzia Rodari di Lucrezia ci può dire anche come sta procedendo la situazione? Io ritengo quei due progetti due degli obiettivi due tra gli obiettivi più importanti che questa amministrazione ha in questo secondo mandato qui stiamo vedendo il render diciamo di quello che sarà un po' l'intervento di riqualificazione dell'ex autorimessa di Cartocetto dopo due tranche che hanno visto la riqualificazione della copertura e la realizzazione mentre invece queste sono le immagini che scorrono si riferiscono all'officina della creatività di Lucrezia che è quasi completata torno per un attimo a quella del capoluogo per dire che dopo queste due prime tranche entro l'estate invece partirà la terza per altri 375 mila euro di cui 200 sono derivanti da un finanziamento della regione Marche 42 dal gestore dei servizi energetici nazionale e il resto per circa 130 mila euro direttamente come confinanzamento del comune di Cartocetto un nuovo spazio di socialità dedicato alla comunità dedicato ai giovani dedicato anche al tessuto culturale sociale di promozione culturale del nostro territorio così come dedicato al corpo bandistico di Cartocetto che troverà definitivamente sede e spazio dopo tanti tanti anni la stessa cosa invece qui invece siamo molto più avanti vale per la officina della creatività di Lucrezia uno spazio dedicato in generale alla comunità ma prevalentemente ai giovani qua siamo molto più avanti dicevo perché a breve credo insomma tra un mese circa verranno posizionati gli arredi interni e quindi poi mancherà tutto quello che è il completamento esatto stiamo vedendo adesso gli interni dell'officina della creatività di Lucrezia mancheranno poi gli interventi di completamento dell'esterno e qui insomma è un intervento un investimento che ci inorgoglisce particolarmente perché saranno spazi come dicevo prima si dedicati alla comunità tutta e in generale a tutte quelle che saranno le attività creative per l'appunto che si vorranno promuovere e proporre sul nostro territorio ma in modo particolare saranno spazi dedicati e riservati ai bambini e agli studenti della scuola della vicinissima scuola primaria Mascarucci di Lucrezia così come a tutti gli altri giovani che vorranno ritrovarsi piuttosto che vorranno rivolgersi a questo spazio per la loro formazione per il loro studio e per tante altre attività che sono sicuro insomma troveranno luogo in questo centro di riferimento sicuramente unico per il nostro territorio a proposito di territorio sono davvero tante le aziende che scelgono il comune di Cartoceto che scelgono per aprire la propria attività oppure che riescono a consolidarsi proprio a Cartoceto quindi un trend positivo ma diciamo che insomma il nostro territorio vive le difficoltà magari in alcuni settori che sono stati importanti e strategici fino a pochi anni fa per l'intero territorio provinciale mi viene da pensare primo fra tutti a quello al settore edile però sicuramente se penso alla frazione di Lucrezia in modo particolare a quelle che sono le zone artigianali e industriali della frazione devo dire che il trend invece in questo senso è in controtendenza sempre nuove attività chiedono di investire o di insediarsi nel nostro territorio quelle presenti vogliono ulteriormente consolidare e di robustire la loro presenza questo significa un riflesso un'incidenza particolarmente positiva da un punto di vista economico di ricaduta diretta e indiretta per il territorio e tutto ma ovviamente significa anche molto in termini occupazionali cartocetto via Montecchio la strada è tutta rotta quando piove viene giù il fango fino in casa le faccio adesso una carrellata lo citavo prima e tra i prossimi interventi che partiranno marciapiede in via Flaminia le chiedono anche sempre in via Flaminia particolarmente davanti le ex Aldi dei dissuasori perché le macchine sfricciano ad alta velocità l'incrocio via Pieve via Sant'Anna non è sicuro dicono che è molto pericoloso quindi anche in questo caso se si può fare qualcosa l'illuminazione al parco di via Madre Teresa di Calcutta a proposito di parchi chiedono più giochi in via Giovanni Pascoli perché dicono che è tanto grande però insomma ce ne sono pochi è uno dei parchi che prima abbiamo dimenticato nel citare insomma nel citarne alcuni ma sicuramente è uno di quelli che ha bisogno di ulteriori investimenti in termini di posizionamento di ulteriori giochi poi Sosta Camper addirittura a Lucrezia l'illuminazione in via Cerquelle e poi un genitore che ci scrive ci dice lo scorso anno in campagna elettorale per l'apertura della casetta dell'acqua nel parco dei martiri di Bologna l'amministrazione aveva promesso tramite un avviso scuola-famiglia consegnato a mano a tutti gli alunni nella scuola un kit sacca più bottiglia le tre classi prime della primaria Mascarucci sono state le uniche a non ricevere il kit come mai? anche perché i bimbi poi sa le tre classi prime della Mascarucci esatto e quindi dicono insomma che non è stato ricevuto questa cosa mi è sfuggita di poter verificare la voglio approfondire e verificare speriamo di aver letto più o meno tutti i messaggi vi chiediamo scusa se non siamo riusciti a leggere tutti se ce ne sia sfuggito qualcuno sindaco purtroppo noi dobbiamo già chiudere qua questa puntata però la ringraziamo per essere stato nei nostri studi e speriamo che alcune di queste segnalazioni poi possano essere accolte io ringrazio a voi è sempre un momento insomma molto importante di approfondimento di verifica anche con i cittadini che in diretta insomma possono rappresentare le ulteriori esigenze io di alcune sono riuscito anche a prenderne nota e spero così come è successo la volta precedente insomma di riuscire a conseguirne alcune grazie ancora al sindaco di Cartocetto Enrico Rossi grazie in regia Riccardo Sora e a Cristiana Guerra e ringrazio tutti voi ovviamente per averci seguito buona serata grazie